Buonasera a tutti e bentornati. Questa sera apriamo questo video parlando della Fondazione Marazzato, ex collezione mezzi storici Marazzato, per illustrarvi il ciclo di Porta Aperta, vi ricordo, ad entrata gratuita che si terrà nel 2024-2025, ogni volta per diversi mesi, 4-5 incontri, se non ricordo male, fino alla prossima estate, però comunque vi riterrò informati. E questo è il primo che apre questo ciclo, il primo incontro di questo weekend, 28 e 29 settembre, come è scritto qui la foto, Campo Base Stroppiana 24, perché adesso andiamo a leggere, dopo il successo dell'edizione 2023, io ho pubblicato diversi video e non sono andato a vedere, Campo Base Stroppiana 23, era il weekend del 4-5 novembre scorso, quindi questa edizione 2024. Stroppiana si trasforma nuovamente in un campo base per accogliere mezzi militari di Salento a tutte le epoche. Voglio solo sottolineare una cosa, chiunque voi siate, bambini, adulti, anziani, e se avete un appuntamento questo sabato o questa domenica, se potete, rimandatelo, perché non potete perdervi questo evento, sabato e domenica, perché c'è il mondo da vedere, da scoprire, da sentire, adesso vi spiego anche il perché, quindi se potete, non mancate, siate numerosi come lo siete sempre stati, perché io ci vado e vedo, insomma, e quindi, vi ripeto, è entrata gratuita, se non avete la tesserina ve la fanno lì all'accoglienza, ogni volta che andate vi fanno un timbrino, ogni 10 c'è un piccolo omaggio, io sono quasi arrivato a 10, quindi non vedo l'ora di ricevere questo piccolo omaggio, e se vede la tessera comunque la procedura la conoscete, vi mette in timbrino e via. Comunque, andiamo a scoprire questo, il programma di sabato e di domenica. Allora, sabato 28, dalle 10 alle 18, ore 10, apertura e inizio attività dinamiche, visite guidate, giri in pista e modellismo, fate la visita guidata all'interno del capannone, vedere tutti i mezzi storici, camion, eccetera, le guide, chiedete tutto, perché sono preparatissime e bravissime, quindi sono molto preparati. Alle 11, convegno tematico sulle forze armate, adesso andremo anche nello specifico, alle 14, tour in carovana, con mezzi storici e visite guidate presso il Museo Carabinieri di Camino, siamo lì in zona, e il Museo Storico Truppe Alpine Cantavenna di Gabbiano, sempre lì vicino. 14 e 30, gara di slot cars, modellismo dinamico, 15, giro in pista con mezzi storici militari, stupendo, 21 e 30, serata e concerto swing, quindi anche un po' di musica. Programma della domenica, 29, 10 e 18, alle 10, sempre uguale, apertura e inizio, attività, dinamiche, visite guidate, giro in pista e modellismo, alle 11, udite, udite, raduno, associazioni combattentistiche d'arma e rievocatori storici, alle 11 e 30, questo è bellissimo, giornata del ricordo, concerto della fanfara alpina di Roppolo, 14 e 30, gara di slot cars, modellismo dinamico, 14 e 30, sempre tiro dinamico con arma airsoft, alle 15, giro in pista con mezzi storici militari, per tutto il weekend, esposizione statica e dinamica dei veicoli storici e contemporanei militari, tra cui jeep, cararmati, elicotteri, stupendo, mongolfiere e auto, provenienti da musei collezionisti e appassionati, cioè, è già tantissimo, comunque continuiamo, pista di modellismo dinamico ed esposizione modellini storici, esposizione fotografica, rievocazione storica con gruppi in costumi dell'epoca, di accampamenti, guardate un po'. Poi, a contorno vi siete libere e guidate, esperienze e realtà virtuale, fatela, fatela, che è bellissima, sono due mezzi, con il visore virtuale, vi portano in un mondo bellissimo, stupendo, io li ho fatti tutti e due perché sono due temi, che vedete all'interno, no, con il visore, il visore, fatele tutti e due se potete, ecco. Tour a bordo di mezzi storici, area ristoria, anche fuori, insomma, c'è da mangiare e da bere, area bimbi e molto altro, quindi non manca nulla. Trovate dei mezzi storici che oggi è lo gruppo marazzato.com, Fondazione Marazzato, su Facebook e su Instagram. Andiamo a vedere, in strada provinciale delle 31 numero 11. Qui programma, campo base stroppiana, ecco, sabato 28 vedete convegno, tour tra di risaie, serata swing, invece domenica, raduno rievocatori storici, concetto fanfara alpina, non me lo voglio perdere, tiro dinamico, voglio capire cos'è, ma adesso lo vediamo. Per tutto il weekend, esposizione mezzi militari, esposizione fotografica, rievocazione storica, visite guidate, attività dinamiche, gare di slotcast e mandillismo, giro in pista, realtà virtuale e food area. Andete, Fondazione Marazzato, strada provinciale 31, stroppiana, Vercelli. Andiamo avanti, andiamo a vedere. Ecco qua, queste sono delle mail che mano a mano mi hanno inviato e io le giro a voi, per il modo di dire. Adesso possiamo rivelare la lista dei relatori, personaggi di spicco del mondo del collezionismo ed esperti di storia militare. Insieme daremo vita a una tavola rotonda di approfondimento della storia dei veicoli militari dagli albori fino ai giorni nostri. Quando sarà? Il convegno sarà sabato 28, alle ore 11, non mancare. E chi manca? Andiamo a vedere, relatori, ho fatto un ingrandimento, andiamo a scoprire chi sono questi relatori. Magari qualcuno di voi li conosce, che è del settore. Roberto Bruciamonti, giornalista ed esperto di veicoli militari. Introduzione, le origini, la prima guerra mondiale. Di che cosa parlano, no? Aurelio San Martino, presidente della commissione veicoli militari dell'Asi. Il periodo tra le due guerre è la seconda guerra mondiale, Italia e Germania. Poi Piero Brezza, presidente dell'IMVCC. La guerra persa all'approccio americano e mezzi americani nella ricostruzione dell'Italia. Quindi un po' la storia che ha attraversato l'Italia durante la seconda guerra mondiale. Walter Secco e Daniele Cereda, collezionisti e membri del CVMS. L'alleanza atlantica, la via italiana alla motorizzazione. Qui c'è lo zampino, ha pubblicato anche un video. Conte di Bricchierasi, andate a vederli i video che sono importantissimi. Di Fubine, no? Molto ampio il discorso. Comunque non ci perdiamo. Il camion dell'EI, esercito italiano dal dopoguerra fino al nuovo millennio. Aurelio San Martino, presidente della commissione veicoli militari dell'Asi. Collezionismo di veicoli militari ai giorni nostri. Quindi chi è appassionato di cose militari, ben servito. Su un piatto d'argento ve lo stanno offrendo ed è tutto gratuito. Quindi alle 11 sabato. Andiamo avanti, andiamo a vedere. Durante l'evento delle porte aperte, grazie al non-slot racing cars, potrete assistere e partecipare a una vera e propria competizione di slot cars, modellini di auto da corsa che vengono utilizzate su piste speciali dotate di scala nature o slot, appunto, ecco, perché slot cars, lungo le quali le auto si muovono. Queste piste possono essere semplici o molto elaborate con curve rettilinei e campi di pendenza. Siete curiosi di scoprire come funzionano? Ti aspettiamo, vedete, il 28 e il 29, quindi sabato e domenica, dalle 10 alle 18. Quindi lo trovate lì. Andiamo a vedere. Eccola qua. Vendo a terminare, durante il nostro prossimo evento, Campo Basi Sto Piano, preparate da Tessista una vera cali slot cars. Una pista per grande sfida e chi sarà il più veloce. Ed è qui, sì, registrati qui per partecipare e qui vedete c'è la pista. Guardate che bella, che bella grande. Quindi poi, vista di presenza, sarà molto più bella, insomma. Come tutte le cose, le foto, sì, va bene, ma di presenza, con i propri occhi e tutto un altro mondo, ecco. Comunque, andiamo a vedere la prossima foto. Il prossimo evento della Fondazione Marazzato ospiterà anche un evento molto particolare alla giornata del ricordo. Domenica, programma della domenica. Ospiteremo, infatti, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Famiglie Cadute e Dispersi in Guerra, e la fanfara Alpini di Roppolo per una cerimonia che partirà da Desana e arriverà proprio a Stroppiana. Desana c'è anche a Castello, ho pubblicato anche un video per quanto riguarda il Castello di Desana, quindi siamo lì. In questa giornata le due associazioni si riuniscono per ricordare i caduti combattenti dispersi in tutte le guerre. Onore e gloria a queste combattenti e Reduci di Guerra. Il programma prevede 9.30, assembramento in Piazza Castello a Desana, dove c'è appunto il Castello, e alle 10, ingresso d'onore delle associazioni combattentistiche d'arme storiche nella piazza con labari e bandiere, accompagnate dalla fanfara Alpina di Roppolo, e lì vicino. Successivamente alza bandiera e deposizione della corona dall'oro al monumento dedicato ai caduti e discorso delle autorità presenti. Alle 11, trasferimento presso la Fondazione Amarazzata. Ecco che arrivano alle 11. 11.30, ingresso e assemblamento dei gruppi accompagnato dalla fanfara Alpini di Roppolo. Breve concetto, saluti e ringraziamenti. Quindi, a quell'ora lì, 11, bisogna essere, a qualsiasi costo da Amarazzata, vedere questi alpini, no? Con la fanfara, eccetera, con i loro strumenti, eccetera. A termine della cerimonia riprenderanno le normali attività del Porte Aperte, come è scritto sotto alle 11. Eccola qua. Raduno e fanfara militare, vedete, domenica 29 settembre alle ore 11, vedete anche qui c'è una foto con gli strumenti, il loro tipico copricapo con la pinna, pinna, penna, con la penna, la pinna è un'altra cosa, la pinna è quella degli squali, questa è una penna, è un'altra roba. Chiedo scusa, a volte mi perdo. Vabbè, poca roba. E gruppo storico, e poi altre associazioni, eccetera. Andiamo a vedere un'ultima foto, ecco, il tiro dinamico, Fiamma Tactical Games. Sei pronto a mettere alla prova la tua decisione e velocità con il tiro dinamico? Domenica 29, quindi il programma della domenica, avrai la possibilità di cimentarti in questa disciplina insieme al gruppo Fiamma Tactical Games che ti seguiranno durante tutta l'esperienza. quindi 29 settembre dalle 10 alle 18 di domenica. Quindi, chi più ne ha, più ne mette, quanti eventi, quante cose ci sono da fare, da vedere, da sentire, da ascoltare, partecipare, quindi l'unica cosa che vi raccomando, siate numerose, andate, perché è un clima di feste, di gioia, di serenità, di amore, di passione. Credetemi, se avete dei dubbi, di qualcosa, quando entrate lì dentro, tutto scompare. Questo è quello che suscita a me, i problemi, le cose lì dentro non entrano, è come se stessero davanti alla porta, davanti al cancello. Comunque, questo è quello che suscita a me, poi credo e spero che anche a voi sia la stessa cosa. Io, come al solito, spero di avervi regalato qualche emozione, ma andrete damarazzato questo weekend, le emozioni lì saranno infinite. Io, come al solito, vi saluto con un abbraccio affettuoso, iscrivetevi se non lo avete fatto, ci vediamo al prossimo video. Non mancate, ciao!